Di oggi rilancio innanzitutto l'esperienza dell'ascolto di un dolore che non poteva essere capito se non ascoltando direttamente chi l'aveva vissuto, perché è una domanda che ci si deve porre. Poi questi giovani qui che sono abbandonati da quelli della mia generazione, stavamo dicendo prima con la signora Moro che tutto si è fermato in Italia, il processo democratico con la morte di Aldo Moro, con la fine del dialogo con Enrico Berlinguerra, il petrocomunista e la dispersione di quelli della mia generazione che sono quelli della signora Moro, noi a quel punto siamo persi e noi dovevamo essere l'esempio per le nuove generazioni, queste nuove generazioni non ci sono più, io a questo punto dico che ciò che viene rilanciato oggi è per esempio un grande recupero spirituale che si trova nei monasteri che sono ancora i serbatoi di determinati valori. Allora prima cosa di rimboccarsi le maniche, noi i discorsi della signora Moro dovremmo rivolgerli a noi, a noi adulti che ci siamo persi in questo mare diciamo così e loro veramente di credere, di chiedere a noi di fare un passo indietro, di rivederci, di riprendere in mano gli studi, il vigore non del denaro che ci ha perso tutti, non di quel maledetto successo che ci ha rovinato l'esistenza, non che dovevamo avere tutte quelle stupidate che ci hanno illuso e basta, dobbiamo recuperare quei valori profondi che fortunatamente diceva madre Giulia che era appunto questo della svolta. Secondo me questo è il contributo che dà la signora Moro, una grande svolta e spero che i ragazzi poi lo riprenderemo poi a scuola si rendano conto di questo, che la svolta è indispensabile, ma non una svolta perché diciamo così domani ho assistito a questa cosa e domani ritorno come prima e spero che nell'impegno, nell'impegno nostro, adulto, di smetterla, di dire che non c'è più niente da fare, quel nichilismo che c'ha tanaglia, tutte queste cose qui, ma c'è tanto da fare, c'è tutto da fare, più i valori. Io metterò in primo piano ancora non per il monastero, lo prenderei come punto di riferimento perché siamo degli eremiti di massa e in questo deserto che stiamo vivendo il monastero è un punto di riferimento e per me è fondamentale.